Ben ritrovati, dunque anche questa sera parleremo di Orizzonte Fano in attesa di questo appuntamento interessantissimo del 4 di marzo. Allora questa sera come vedete nostro ospite nel nostro studio c'è l'assessore Marco Paolini, parleremo di demografia. È interessante perché parliamo di tutti noi che abitiamo in questa città. Buonasera assessore, allora analizziamo un attimo questi dati, perché sono importanti questi dati per il territorio di Fano? Ma intanto capire come evolve la popolazione è importantissimo per dimensionare il piano regolatore, per le politiche urbanistiche capire di quanti alloggi c'è bisogno in questa città. Quindi questo è il primo passo fondamentale. E soprattutto a questo punto, magari aiutati anche dai dati e dalle slide, come si presenta la situazione demografica a Fano? A Fano ha avuto intanto una crescita prorompente fino al 2011, che è partita dal 1991, nei dati che abbiamo seguito, anche attraverso i censimenti Istat. Ed è cresciuta molto di più di altri territori vicini, come Pesaro e Senigallia, che vengono considerati come riferimento. E quindi ha avuto una crescita importante, molto importante, ma poi negli ultimi anni, dal 2011 in poi, c'è stato un rallentamento, un fermarsi di questa crescita demografica, anche al netto del distacco della popolazione di Marotta. Quindi questo è un dato che fa emergere poi delle riflessioni. Ecco, quali sono queste riflessioni? Intanto il punto è che occorre mettere in campo e valutare le politiche legate da un lato al problema della natalità, perché è calata, il saldo nascite-morti è peggiorato, cioè i fanesi fanno sempre meno figli. E poi il nostro territorio non risulta più attrattivo per la migrazione del lavoro, cioè il lavoro non viene più, la gente non viene più nel nostro territorio a cercare lavoro perché l'offerta si è ridotta. Com'è la fotografia della famiglia oggi a Fano? È un po' su un trend nazionale, però diciamo così, mentre nel 1991 avevamo famiglie con un tasso che arrivavano a 2,9 componenti medi, oggi siamo scesi a 2,2, quindi vuol dire che si sta andando verso le famiglie unipersonali. Ecco, alla fine lei certamente ha visto tutti i dati, quindi qual è la riflessione che ha fatto su questi dati? Intanto una prima riflessione è il portato urbanistico di queste analisi ed è anche il portato di una problematica che va appunto nella riflessione del piano strategico. Occorre riflettere su tutto quanto possa sventare una crisi demografica, cioè la città si è fermata, bisogna farla ripartire anche dal punto demografico. La città si sta invecchiando, bisogna trovare il modo di contrapporsi anche a questa tendenza. Siamo partiti da un'età media di 40 anni e siamo arrivati a un'età media quasi 45, insomma. Quindi pur essendo un trend migliore rispetto a Senigallia-Pesaro, però è un trend in invecchiamento. Quindi occorre mettere in campo politiche necessarie e interventi necessari a risolvere questa stasi demografica che stiamo vivendo. E allora per fare questo è necessario, come dire, il contributo del maggior numero di persone. Quindi idee, tutto ciò che può essere utile anche alla luce di quello che abbiamo detto in sintesi questa sera, può essere discusso, proposto in un appuntamento, in un host chiamato host foro urbano, che si terrà il 4 di marzo, dalle 9 alle 13, in due sedi diverse, una all'ex chiesa di Sant'Arcangelo, l'altra alla Memo. Sono due appuntamenti fondamentali, dove si cercherà di buttare appunto in tavoli ben organizzati, ci sarà un metodo di lavoro interessantissimo da provare, si cercherà di buttare giù delle idee. Ecco, le vostre, le vostre idee sono fondamentali per la Fano del futuro. E allora l'appuntamento è per il 4 di marzo. Come dicevo, per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 di febbraio all'indirizzo orizzontefano.it, oppure potete andare in piazza 20 Settembre, dove c'è l'ufficio relazioni con il pubblico, e lì potete fare la vostra iscrizione. Oppure, se avete i social a disposizione, cercate la pagina Orizzonte Fano, e lì troverete tutti i dettagli. Grazie all'assessore Marco Paolini. Arrivederci. Grazie.